Ciao Andrea Avrei voluto dare il mio contributo alla tua trasmissione dopo una bella vittoria, ma ieri non è andata bene. Ci sarebbero due cose che vorrei chiederti. Primo, quest'anno abbiamo una squadra che esprime anche un bel gioco corale, però manca sempre quell'ultimo passaggio all'interno dell'area di rigore che possa smarcare un attaccante per andare in gol. Secondo te da cosa dipende questa cosa? E come si potrebbe fare per cercare di migliorare da questo punto di vista? Secondo, mi vuoi spiegare come mai Belotti lo chiamano il gallo Belotti? Questo proprio non me lo spiego. Ti ringrazio e ti saluto. Ciao Arnaldo, grazie per le tue domande. Cercheremo di risponderti in maniera più esistiva possibile. Siamo d'accordo con te quando parli che l'azione corale della SPAL è migliorata, infatti sia il palleggio sia il frasseggio al centrocampo è di qualità superiore rispetto a quello della scorsa stagione. Cosa manca per arrivare alla conclusione più spesso? Manca solo, secondo me, il fatto che i nuovi interpreti vadano a conoscere ancora meglio quelli già presenti nella rosa della SPAL dell'anno scorso. Infatti la SPAL, come vedi, cerca un gioco di appoggiarsi sulle punte su Petagna per poi aprirsi alle fasce e cercare di nuovo di buttare la palla al centro. Tempo qualche partita, secondo me, arriveremo a creare molte più azioni da gol. Per quanto riguarda la seconda domanda che ci hai posto, beh, il nomignolo Il Gallo deriva dal cognome di un amico di infanzia di Belotti che gli ha consigliato di esultare con il segno di una cresta aperta sopra la testa ogni volta che buttasse il pallone in rete. Ciao Ronaldo e continua a seguirci. Ciao Giacomo, grazie per la tua domanda. Secondo noi la prestazione di Giroud è stata discreta in quanto deve ancora inserirsi nei meccanismi della squadra e dimostrazione è stata la circostanza sulla quale il Torino è passata in vantaggio. È stato un po' lento nei movimenti e non ha preso posizione in maniera ottima. Però per il resto della partita, grazie alla sua esperienza, è riuscito a cavarsela egregiamente. Sono anche convinto che con il passare del tempo, il passare delle giornate e più conoscerà i compagni del reparto difensivo il suo pedigree porterà tranquillità e sicurezza a tutti gli altri componenti. Ciao e continua a seguirci. Ciao Andrea, ciao a tutti i tifosi della SPAL e NON, sono Palace. Torino-SPAL finita 1-0 con il rete di Nicolas Anculo al secondo tempo. Bella partita, soprattutto mi ha stupita questa SPAL che è saputo andare a testa alta fuori casa contro il Torino. Mi ha stupito ormai tanto perché può arrivare in alto quest'anno. Bella partita, partita che ha dato dell'incredibile. Al ventesimo è stata rinviata e dopo un'ora è stato fatto un sopralluogo dell'arbitro sul campo, ritenuto poi praticabile. Si è continuato, è partita che il primo tempo ho visto un bel Torino, mentre nel secondo ho visto più SPAL, se devo dire la verità. Quindi la decide Nicolas Anculo al secondo tempo, bella incornata. E volevo farti questa domanda Andrea, secondo te ieri ho visto una bella SPAL, secondo te quest'anno dove si può posizionare la SPAL? Un saluto da Palace a tutti e in bocca al lupo per quest'anno a tutti i tifosi della SPAL. Ciao Palace, grazie per il tuo intervento. Da Spallini diciamo che secondo noi era più giusto il pareggio finale per quello che si è visto. Detto ciò, secondo noi la SPAL si salverà tranquillamente, non lo so, ma si salverà. Se mi dicessero oggi firmi per il diciassettesimo posto, firmerei. Però vista la squadra in queste prime tre uscite, secondo me potremmo anche arrivare dodicesimi, tredicesimi. Ciao, continuo a seguirci e un abbraccio a tutti i tifosi Granata. Ciao Andrea, sono Pietro e ti volevo chiedere due domande su Lazzari. La prima è se dopo questa convocazione nazionale da parte di Lazzari sarà più richiesto nel mercato di gennaio da altre squadre, anche con offerte che la dirigenza avrà difficoltà a rifiutare. e anche se Mancini lo farà esordire anche per poco contro la Polonia nella Nations League. Chiudiamo l'appuntamento settimanale con Pietro. Grazie innanzitutto per essere intervenuto. Su Lazzari, secondo noi, la società non lo darà via nel mercato di gennaio, salvo offerte indecenti, ma dubitiamo che queste possono arrivare. Se ne riparlerà quindi nel calcio mercato estivo 2019-2020. Il valore di Lazzari aumenterà se Manuel continuerà a offrire prestazioni come quelle che ha fatto vedere nelle prime tre uscite stagionali. Non c'entra tanto l'impegno con la nazionale. E chiudiamo dicendoti che, essendo partite che valgono già dei punti, secondo me Mancini non lo farà esordire. Però il giocatore dovrà sfruttare questa chance in quanto mancano giocatori famosi e affermati quali Florenzi, Conti, e quindi deve sfruttare questa occasione perché non ha nulla da invidiare a Zappacosta. Anzi, Manuel è molto più forte ed è un vero orgoglio sia per la vecchia proprietà della Giacomense sia per Ferrara perché è un giocatore che si è fatto da solo. Con questo concludiamo ragazzi. Grazie a tutti per averci seguito anche quest'oggi. di settimana in settimana state crescendo, continuate a farci domande, non abbiate paura. Qualsiasi domanda va sempre bene. Noi cercheremo sempre con professionalità di rispondere e sperando che vi sia visita anche questa puntata mettete like e continuate a seguirci. Ciao a tutti ragazzi!